Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È l'autunno del 2011 e ci troviamo a Compton, una città situata nello stato della California. Questa storia si svolge nelle settimane che precedono Halloween, quando il macabro diventa ludico e le strade si riempiono di spettri, streghe e mostri. Ma in questo caso la realtà può superare persino l'immaginazione, gettando un'ombra ancora più inquietante. Cynthia Alvarez, un'adolescente di 15 anni, vive a Compton con la sua famiglia, la sorella maggiore Diana, la loro madre Gloria e il suo compagno José. Il padre biologico di Cynthia venne deportato in Honduras quando la ragazza era ancora piccola. La madre Gloria, dopo la separazione, incontrò José, originario del Messico, e iniziò una relazione con lui. Decisero di trasferirsi tutti insieme in una casa mobile a Compton, così José è diventato il patrigno di Cynthia e di Diana. José e Gloria andavano molto d'accordo e sembravano felici di essersi trovati. José fa tuttora del suo meglio per prendersi cura della famiglia. Non sono persone benestanti, quindi lui lavora tantissimo per guadagnare più soldi possibili, anche perché Gloria non è in grado di svolgere nessuna professione a causa di gravi problemi di salute. In passato era sempre stata una casalinga, ma riusciva a prendersi cura delle sue bambine, Diana e Cynthia. Adesso però nel 2011 Gloria è diventata parzialmente cieca, soffre di diabete e ha difficoltà a camminare da sola. A soli 58 anni è obbligata a usare un deambulatore per spostarsi, deve recarsi regolarmente dal medico per visite e controlli, poi all'ospedale per sottoporsi a delle cure. In America, come è noto, le spese mediche possono essere incredibilmente costose. Per questo José si impegna a svolgere più lavori. Il suo settore è quello dell'edilizia, dove purtroppo riesce a trovare soltanto impieghi saltuari, poi collabora anche come autista presso una società che si occupa di noleggio di attrezzature per feste per bambini. Questa ditta in pratica fornisce articoli come tavoli, sedie, giochi gonfiabili, che José consegna ai clienti e poi ritira quando le feste si concludono. Tale attività lo impegna per tantissime ore, sia durante la settimana che nei weekend. Nel 2010 però Diana, la figlia maggiore di Gloria, è andata a vivere con il suo compagno, quindi ora in casa vivono solo José, Gloria e Cynthia. I genitori, nonostante le continue difficoltà finanziarie, fanno del loro meglio per rendere felice Cynthia. Quando possibile la portano a fare shopping e le comprano un iPod Touch oppure trucchi e vestiti nuovi. A metà del 2011, in occasione del quindicesimo compleanno di Cynthia, le hanno organizzato una grande festa. In tutte le famiglie latinoamericane, il compimento dei 15 anni dei figli è un evento che va celebrato, in quanto rappresenta il passaggio dalla pubertà alla vita adulta. Ovviamente, organizzare una grande festa comporta delle spese consistenti, quindi José e Gloria hanno risparmiato a lungo per regalare alla figlia un compleanno davvero speciale. A distanza di un paio di mesi, Cynthia vuole organizzare un'altra festa per Halloween, a casa sua. Invita i compagni di scuola, i quali dice che i suoi genitori non sarebbero stati presenti, non vede l'ora di festeggiare la notte delle streghe con gli amici. In effetti, già dalla metà di ottobre 2011, Gloria e José sembrano spariti nel nulla, senza lasciare traccia. È lunedì 17 ottobre, quando il capo di José, Blanca, comincia a preoccuparsi in quanto durante il weekend l'autista non si è presentato al lavoro, né l'ha contattata per avvisarla della sua assenza. Il fatto è davvero strano, perché in diversi anni di lavoro José si è sempre presentato in orario e si è sempre dimostrato affidabile. Blanca quindi decide di andare a casa sua, a Compton, per controllare che tutto sia a posto. Ma, quando bussa alla porta di casa di José, non ottiene risposta. Nota però che la porta d'ingresso è leggermente aperta, quindi la spinge e si avventura all'interno della casa. Pare che non ci sia nessuno nell'abitazione, ma di certo spicca un gran caos. Ci sono vestiti, oggetti e spazzatura sparsi su tutto il pavimento del soggiorno, mentre in cucina, sul fornello, c'è una pentola contenente una zuppa che sta andando a male. Tutta questa sporcizia evidente non rappresenta il modo in cui Gloria e José sono soliti tenere la loro casa. Nella mente di Blanca, quindi, si sollivano due domande principali. Perché l'abitazione è versa in questo stato? E soprattutto, José, Gloria e Cynthia, dove sono? Allarmata e in cerca di risposte, Blanca contatta la polizia. Gli agenti raggiungono la casa. Si guardano intorno e notano subito lo sconcertante disordine. Le ante e i cassetti degli armadi sono aperti. Sembra che sia avvenuta una rapina che qualcuno abbia frugato caoticamente alla ricerca di oggetti di valore da rubare. Questa teoria sembra acquisire concretezza, specialmente quando la polizia, in una delle camere da letto, individua un portagioie all'ivuoto. Poi, dando un'occhiata in cucina, qualcosa sul pavimento attira l'attenzione degli agenti. Una maschera di Halloween, dall'aspetto particolarmente inquietante, che raffigura un teschio nero. Ma la maschera non è l'unico oggetto in tema Halloween che la polizia trova. Infatti, anche in soggiorno sono presenti svariate decorazioni che celebrano questa festa. In ogni caso, mentre le perquisizioni nell'abitazione continuano, altre agenti cercano eventuali testimoni che sappiano qualcosa su ciò che è accaduto alla famiglia scomparsa. Interrogano innanzitutto le persone che abitano nelle vicinanze, le quali cercano di ricordare quando hanno visto la famiglia l'ultima volta. I vicini, riflettendo, si rendono conto che sono trascorsi diversi giorni da questa fatidica ultima volta, il che è strano. Sì, José lavora tanto, quindi una spiegazione alla sua assenza potrebbe esserci, ma Gloria è sempre in casa. Eppure è sempre sparita da giorni, nessuno l'ha vista nemmeno alla finestra. Però una vicina dice alla polizia che ha notato Cynthia un paio di giorni prima. Stava infilando alcuni sacchetti in un bidone della spazzatura del quartiere. La vicina quindi aveva iniziato a chiacchierare con la ragazza, chiedendole prima di tutto se sua madre e il suo patrigno stessero bene, perché non li vedeva da un po'. Cynthia l'aveva rassicurata, spiegando che sua mamma, Gloria, stava affrontando un intervento chirurgico agli occhi e che José era in ospedale con lei. La vicina, consapevole che Gloria ha dei problemi alla vista, era convinta che la ragazza stesse dicendo la verità. Tuttavia, continuando a chiacchierare con lei, ha notato che la quindicenne stava buttando nel cassonetto, oltre a dei vestiti, pure delle foto di famiglia. Le ha chiesto delle spiegazioni e Cynthia ha risposto che stavano sgomberando la casa da alcune cose inutili. Queste informazioni rendono la polizia perplessa, ma anche sospettosa e insolito sia che José e Gloria non si vedano in giro da giorni, sia che la figlia abbia gettato via interi album di famiglia. Nell'ottica dell'indagine, forse Cynthia non è una persona scomparsa come José e Gloria, ma una persona di interesse. Per accertare la veridicità della storia che Cynthia ha raccontato alla vicina, la polizia inizia a contattare gli ospedali locali e chiede notizie su Gloria. Ha davvero subito un intervento chirurgico agli occhi? Beh, pare proprio di no. Nessun ospedale ha traccia di quest'operazione e del relativo ricovero di Gloria, quindi Cynthia ha mentito. Quando la polizia parla con la sorella maggiore di Cynthia, Diana, lei conferma che non sapeva nulla del fatto che sua madre fosse stata operata. La polizia ha maggior ragione e cerca di rintracciare Cynthia mentre procedono le perquisizioni in casa di José e Gloria. Si spera che emergano degli indizi in grado di indicare dove siano andati o cosa sia accaduto loro. Durante queste ricerche gli agenti trovano qualcosa che cambia completamente il corso dell'investigazione, delineando i contorni di un caso di omicidio. Si tratta di un quaderno rinvenuto in soggiorno ed ha il contenuto a dir poco scioccante. Su una pagina si legge la scritta «Sono troppo spaventata, non posso farlo». Su un'altra pagina c'è scritto «Lo devi fare tu». Su quella ancora successiva prendono forma le domande «Se andassi a letto, puoi ucciderla? Pensi di poterla uccidere mentre è a letto?» Sembra proprio che l'autrice di queste macabre note stia comunicando con qualcun altro, sempre attraverso il quaderno, piuttosto che dialogando direttamente. Dunque, chi scrive incoraggia l'interlocutore a commettere un omicidio, anche se lui forse tentenna. Ma chi è la vittima in questione? Forse Gloria, la madre di Cynthia. E soprattutto, chi ha scritto questi appunti? Proprio sua figlia? A chi si sta rivolgendo per organizzare il delitto? Non passa molto tempo prima che la polizia ottenga conferma dei suoi sospetti e che si faccia un'idea del soggetto immischiato nella vicenda. Come emerge parlando con altri membri della famiglia, Cynthia ha un fidanzato di nome Giovanni Gaiardo, di 16 anni. I due si erano conosciuti a scuola, entrambi hanno problemi di apprendimento e frequentano le stesse classi. Ben presto fanno amicizia, passano molto tempo insieme e diventano una coppia. Tuttavia a Gloria e a José non piace affatto Giovanni, quindi non sono felici che la figlia stia con lui. Non emergono informazioni precise sul motivo di questa disapprovazione, in ogni caso provano a impedire a Cynthia di incontrarlo, ma così alimentano proprio la sua voglia di vederlo. La ragazza non dà retta ai genitori, quindi quando vuole vedere Giovanni esce di casa e va da lui, incurante della loro contrarietà. A questo punto la polizia ha un'altra persona di interesse implicata nell'indagine, deve rintracciare Giovanni. Dunque scopre il suo indirizzo e va a casa sua, ma non lo trova. Tuttavia è presente sua madre, la quale dice agli agenti che non vede il figlio dal giorno precedente. Era insieme alla sua fidanzata, Cynthia, ma non ha idea di dove siano ora. Ipoteticamente Cynthia quindi non è scomparsa, si trova con il suo ragazzo da qualche parte. La mamma di Giovanni rassicura agli agenti che, quando avrebbe avuto notizie della coppia, si sarebbe immediatamente messa in contatto con loro. Dopo un altro giorno, il 19 ottobre, la donna chiama effettivamente la polizia e comunica che suo figlio e Cynthia sono appena tornati a casa. Preannuncia che li avrebbe portati immediatamente alla stazione di polizia, siccome i due ragazzi possono essere utili per localizzare José e Gloria. Quando Cynthia e Giovanni arrivano in centrale, vengono divisi, portati in due stanze separate. Chiaramente i detective vogliono ascoltare la versione di ciascuno di loro. Avrebbero raccontato la stessa storia? I detective chiedono a Cynthia cosa sta succedendo. Dove state in questi giorni? Che fine hanno fatto i suoi genitori? La ragazza ribadisce più o meno quanto detto alla vicina. Sua madre è in ospedale per un intervento chirurgico agli occhi e il suo patrigno, José, è con lei. I detective, però, sanno già che questa è una bugia. Hanno controllato ogni ospedale locale e glielo dicono. Di sua madre non c'è traccia. Cynthia si giustifica riferendo che era stato José, il patrigno, a dirle così. Voleva dedicarsi a Gloria completamente e da solo, cioè senza che la sua compagna ricevesse visite. Sua madre era d'accordo, per questo Cynthia non la vedeva né le parlava da un po' di giorni. Addirittura il 16 ottobre José avrebbe minacciato Cynthia e suo fidanzato Giovanni con una pistola, puntandogliela contro. Secondo la quindicenne, il patrigno ha ordinato a entrambi di raccogliere la maggior parte delle cose care a Gloria, come vestiti e foto di famiglia, e buttarli. José non ha spiegato le motivazioni dietro quest'ordine, ma loro lo hanno eseguito perché erano spaventati, temevano per le loro vite. Quindi questo spiegherebbe quanto accaduto durante l'incontro tra Cynthia e la vicina di casa che l'ha avvistata vicino al cassonetto. Cynthia aggiunge che a questo punto ha iniziato a sospettare che sua madre non fosse in ospedale, che José avesse mentito. Forse lui ha fatto del mala Gloria, forse l'ha uccisa. Ecco perché voleva sbarazzarsi delle foto di famiglia e dei suoi vestiti. Gli ricordavano la sua compagna, morta per mano sua. La ragazza spiega che questa è stata l'ultima volta in cui ha visto José. Tuttavia la polizia non crede alla sua versione, che appare menzognera. I detective sono convinti che Cynthia sappia molto di più, anzi che sia coinvolta nella scomparsa di sua madre e del suo patrigno. Come ricorderete, la polizia in casa ha trovato un quaderno, dal quale si deduce che due soggetti stanno architettando un omicidio, o meglio, uno lo commissiona all'altro. La polizia, come già detto, teorizza che l'autrice degli appunti sia proprio Cynthia, quindi le mostra il quaderno e le chiede spiegazioni. Lei allora ammette che quella è la sua calligrafia, dopodiché la sua intera versione dei fatti cambia. Innanzitutto dice che sua madre Gloria e il suo patrigno sono morti, poi rivela chi li ha uccisi, il suo fidanzato Giovanni. Cynthia spiega che ci sono stati diversi problemi tra Giovanni e i suoi genitori, che l'ostilità tra loro era reciproca. Infatti, in un'occasione, Gloria e José hanno cercato di dividere la coppia coinvolgendo la polizia, quindi Giovanni era pienamente consapevole di non piacere ai genitori della sua fidanzata. Cynthia confessa che la situazione ha preso una svolta ancora più preoccupante quando ha confidato al suo fidanzato di essere stata vittima di aborti da parte dei genitori. Già, Cynthia afferma di aver subito aborti sia da sua madre che dal suo patrigno per diversi anni. racconta che Gloria era molto violenta sia verbalmente che fisicamente, che emotivamente. Le urlava sempre contro, le permetteva solo raramente di uscire con i suoi amici e le metteva le mani addosso. Anche il patrigno, secondo Cynthia, diventava molto violento nei suoi confronti, ma non si limitava a metterle le mani addosso. Le faceva anche violenza. Le aveva toccata in modo inappropriato diverse volte nel corso degli anni. I membri della famiglia però dicono di non credere a queste accuse, convinti che Cynthia abbia mentito su tutto. E neanche la polizia a dirla tutta trova delle prove a sostegno di ciò che afferma l'adolescente. Le fonti a riguardo sono contrastanti. Alcune riportano che Cynthia ha provato a denunciare il suo patrigno alle autorità, ma poi sua madre l'ha convinta a ritirare la denuncia. Altre smentiscono il fatto che Cynthia abbia esporto denuncia. A prescindere che questa storia sia vera o meno di certo, Cynthia l'ha raccontata al suo fidanzato Giovanni, il quale le ha creduto, anzi si è inforiato al punto da pianificare l'omicidio di José e Gloria. Giovanni nella sua fantasia rappresenta il cavaliere dall'armatura scintillante che avrebbe salvato la sua dama Cynthia da quei malvagi genitori. Cynthia sostiene che inizialmente ha rifiutato di aderire al piano omicida presentato da Giovanni, ma a quel tempo l'uccisione dei suoi genitori non le è più apparsa come una cattiva idea. I detective chiedono a Cynthia conferma delle sue parole. L'idea di uccidere Gloria e José quindi è stata di Giovanni? Ma poi questa idea è piaciuta anche a te? Cynthia risponde sì, ma allo stesso tempo non mi piaceva. In pratica sta cercando di dire che era confusa, avrebbe voluto che i suoi genitori sparissero perché le facevano del male, ma allo stesso tempo non voleva ucciderli. I detective, data per vera la sua contrarietà, le chiedono perché non abbia cercato di fermare Giovanni e lei dice che lui le faceva paura. All'inizio della loro storia Giovanni la rendeva felice e la trattava con gentilezza. Le mostrava quell'amore che lei non aveva mai ricevuto dai suoi genitori. Tuttavia, col tempo era cambiato, lasciando emergere il lato oscuro che lui ha dentro di sé. Anche Giovanni quindi era diventato violento nei suoi confronti aggressivo verbalmente e poi era arrivato addirittura a metterle le mani addosso, a tirarle i capelli, a metterle le mani al collo quando litigavano. In un'occasione l'aveva minacciata impugnando un coltello, in un'altra le aveva puntato contro una pistola. Cynthia riferisce agli investigatori anche che Giovanni una volta l'ha obbligata ad assumere delle pillole per intontirla e poi ha fatto violenza su di lei. Ecco perché la ragazza ha paura del suo fidanzato perché non ha cercato di impedirgli di uccidere i genitori. Ma la giustificazione della paura non convince del tutto gli investigatori. Se Giovanni, dopo aver manifestato la sua intenzione di commettere il delitto, lo ha poi pianificato per intere settimane, perché intanto Cynthia non ha chiesto aiuto a nessuno, perché non lo ha lasciato, lei sostiene che se si fosse allontanata lui l'avrebbe sicuramente trovata e gliel'avrebbe fatta pagare. Ma ora la domanda è qual è la versione di Giovanni? Quando i detective lo interrogano, lui in effetti conferma la versione di Cynthia. Dice che lei non ha niente a che fare con l'accaduto, che quello del duplice delitto era un suo piano e lo aveva portato a termine da solo. Voleva soltanto che lui e Cynthia potessero stare insieme senza subire le intromissioni dei suoi genitori. Tuttavia la polizia non è ancora convinta che le dinamiche dei fatti siano queste e continua a credere che Cynthia abbia assunto un ruolo più importante nell'attuazione dei due omicidi. Inoltre la polizia pensa che la coppia si sia accordata prima di sostenere gli interrogatori. Giovanni si sarebbe preso tutta la colpa. Questa deduzione è suggerita anche dal comportamento mostrato dai due ragazzi dopo gli interrogatori separati. Infatti, quando Cynthia e Giovanni vengono poi condotti nella stessa stanza e lasciati da soli, sempre sotto attenta osservazione della polizia, lei entra per prima. Lui la raggiunge e decide di sedersi su una sedia vicina alla sua, ma lei gli chiede di sedersi proprio accanto a lei. Giovanni si sposta e i due iniziano a conversare. Gli investigatori vedono che Cynthia sorride mentre parla con l'assassino dei suoi genitori. Addirittura a un certo punto si mette a ridere. Poi gli si avvicina ancora di più per sussurrargli qualcosa all'orecchio. La polizia è sbalordita. Non sembra affatto che Cynthia temi Giovanni, che davanti a lui si senta impotente, vulnerabile. Si era dipinta come una vittima. Diceva che Giovanni la manipolava, eppure quando rimane sola con lui non risulta spaventata per niente. Insomma, il suo comportamento smentisce completamente la sua versione dei fatti. Giovanni non l'aveva costretta ad accettare l'omicidio dei suoi genitori. In realtà, lei era sua complice. Torniamo un attimo alle frasi scritte sul quaderno. Una prova che indica che Cynthia, la leader del piano, quella che aveva preso la fatale decisione, dando l'ordine a Giovanni di uccidere sua madre. Quindi, cos'è accaduto realmente il giorno in cui José e Gloria sono stati uccisi? Cynthia afferma che la sera del 12 ottobre 2011 Giovanni si è presentato a casa sua, dove c'erano soltanto lei e Gloria, perché José era ancora al lavoro. Gloria era in cucina occupata a preparare la cena a base di zuppa per Cynthia. Sì, proprio quella zuppa poi è andata male, che la polizia ha notato durante la prima ispezione in casa. In realtà, quella rimasta in pentola era una porzione avanzata. Ricapitolando, Gloria sta preparando la zuppa e Cynthia apre la porta a Giovanni, che si è presentato col fine di commettere l'omicidio. Con sé, infatti, il ragazzo ha uno zaino contenente una maschera di Halloween e una mazza da baseball. Secondo i documenti in possesso del tribunale, Cynthia avrebbe cercato di ostacolarlo dicendogli «No, non lo farai». Tuttavia, alla fine lo lascia entrare e accetta quindi che il piano venga messo in atto. Perché Cynthia fa questa affermazione sul banco dei testimoni? Beh, o ha mentito sotto giuramento, oppure ha davvero cambiato idea in un secondo momento. Comunque, Giovanni entra in casa. Intanto Gloria si è spostata dalla cucina alla camera da letto. Il ragazzo va a nascondersi nel ripostiglio e indossa la maschera nera di Halloween, che poi verrà trovata in casa durante il primo sopralluogo. Gloria torna in cucina e si siede sul divano. Non immagina che Giovanni si nasconda nel ripostiglio, chiaramente. Cynthia nel frattempo comunica con il suo ragazzo tramite gesti, indicandogli il punto della cucina in cui si trova sua madre. Poi si avvicina al ripostiglio col quaderno in mano e inizia a scrivere, perché chiaramente non può parlargli a voce. Gloria riprende a cucinare, mentre Cynthia scrive messaggi dell'orrore a Giovanni. Le scritte sono grandi perché lei deve permettergli di vederle sollevando il quaderno. Cynthia, come detto, scrive «Sono troppo spaventata, non posso farlo, devi farlo tu». Queste frasi, a mio avviso, indicano che in origine Cynthia avrebbe dovuto aiutare il suo fidanzato a portare a termine l'omicidio. Dunque, soltanto alla fine ha deciso di non partecipare e voleva che Giovanni commettesse il delitto da solo, ma non lo esorta a ripensarci. Dopodiché Cynthia spiega di essere uscita da casa perché non voleva assistere a ciò che il suo fidanzato stava per fare. A questo punto l'aggressione contro Gloria ha inizio, mentre ancora in cucina Giovanni la ferra alle spalle e le tappa naso e bocca con un pezzo di stoffa imbevuto di alcol denaturato. Spera, in questo modo, di mettere Gloria fuori combattimento, rendendola inerme, inibendo la sua capacità di reagire. Giovanni riesce a spingerla a terra e le preme le mani attorno al collo per strangolarla. La donna, prima di morire, urla il nome di sua figlia. Quando Cynthia torna a casa, vede il corpo senza vita di sua mamma riverso sul pavimento. Giovanni ha coperto il viso di Gloria con un asciugamano, poi le ha legato mani e piedi con del nastro adesivo. Successivamente, la giovane coppia assassina recupera alcuni gioielli che Gloria indossa, tra cui un braccialetto da provare a vendere più tardi. Poi i due trascinano il corpo di Gloria in una delle camere da letto e lo lasciano lì. Dopodiché tornano in cucina per aspettare il rientro di José. Siedono a conversare, poi a guardare la televisione. A un certo punto si mettono alla ricerca dell'iPod di Cynthia in giro per casa, visto che Gloria e José gliel'avevano sequestrato di recente a seguito di una discussione. Giovanni, infine, lo ritrova nella camera da letto dei genitori di Cynthia. José rincase intorno alle 21 e Giovanni è già pronto. Indossa la sua inquietante maschera di Halloween e si nasconde dietro la porta d'ingresso con la sua arma in mano. Nel frattempo, Cynthia è sdraiata sul divano e finge di dormire. Appena José entra in casa, Giovanni lo colpisce con tutta la sua forza, usando la mazza da baseball. Lo bastona per due volte sulla faccia. Allora José cade a terra e Giovanni inizia a calpestarlo. Poi gli mette le mani attorno al collo e lo strangola finché non perde conoscenza. Ma i due ragazzi credono che sia morto. Giovanni gli lega ugualmente mani e piedi, ma intanto José riprende conoscenza e inizia a lottare per salvarsi la vita, per allontanarsi da lui. I due iniziano a spingersi. Allora l'adolescente chiede aiuto a Cynthia. Lei afferra la mazza da baseball e colpisce il suo patrigno più volte nella parte inferiore del corpo. Nella tasca di José cade un coltellino svizzero. L'uomo tenta di raccoglierlo per provare a difendersi, ma Cynthia se ne accorge e dà un calcio al coltello, allontanandolo dalla portata del patrigno. Poi la ragazza corre in cucina, prende un coltello, a sua volta lo passa al fidanzato, il quale pugnala José a morte. José viene colpito dalle sette alle undici volte e, dopo che è deceduto Giovanni, torna a legarlo e avvolge il suo corpo in una coperta. Infine mette entrambi i cadaveri nel bagagliaio dell'auto di Gloria. Una jeep. La coppia assassina sale a bordo del veicolo e inizia a perlustrare la zona alla ricerca di un posto adatto a seppellire José e Gloria. Poco dopo, i due adolescenti individuano un terreno incolto a North Long Beach. Ma dopo che Giovanni ha scavato una buca, si rende conto che c'è spazio per un cadavere soltanto. Dunque seppelliscono lì il corpo di José e intanto lasciano quello di Gloria in macchina. Se ne occuperanno in un altro momento. Ora vogliono tornare a casa perché è molto tardi e sono stanchi. Di nuovo nell'abitazione Giovanni pulisce la scena del crimine cercando di rimuovere tutte le macchie di sangue. Ma non riesce al meglio nell'impresa. Infatti la polizia e le squadre forensi individuano tracce di sangue sul pavimento, sul divano e su uno spazzalone, probabilmente usato per pulire per terra. Dopo le imprecise pulizie Giovanni e Cynthia vanno a dormire e la mattina seguente entrambi si recano a scuola, anche se non frequentano nessuna delle lezioni previste. Forse cercano soltanto di non dare nell'occhio andando a scuola, ma non capisco perché non frequentino le lezioni. In ogni caso, quando più tardi tornano a casa, recuperano tutti gli oggetti che pensano di poter vendere per guadagnare qualche soldo. I gioielli che Gloria custodiva nel suo portagioie e alcune componenti del camion di José, come la batteria e l'alternatore. Dopo essersi cimentati nella vendita, riescono a ricavare poco meno di 500 dollari, che decidono di spendere in decorazioni per Halloween. Come vi ho detto, Cynthia non vedeva l'ora di organizzare una festa per il 31 ottobre e di invitare i suoi amici di scuola. Quindi, nei giorni successivi al duplice omicidio, lei e Giovanni vanno in un negozio e acquistano le decorazioni a tema. Lucine lampeggianti, a forma di teschio, bastoncini luminosi, poi anche birra, soda, patatine. L'aspetto più disturbante di questa loro smagna è che la secondano, mentre nel bagagliaio dell'auto c'è ancora il corpo di Gloria. È lì dentro da giorni, perché non hanno trovato un posto idoneo dove seppellirla. Dopo aver fatto queste allegre spese, la coppia torna a casa e la decora con gli articoli appena comprati, nonostante le stanze versino in condizioni disastrose. Poi, a distanza di tre giorni dagli omicidi, gli adolescenti seppelliscono Gloria in una fossa poco profonda dietro un cimitero abbandonato di Norwalk, che dista circa otto miglia da Compton, il posto in cui vivono. Poi abbandonano la jeep di Gloria in una strada vicina e gettano le chiavi dell'auto oltre una recinzione. Tornano a casa e solo a questo punto Cynthia decide di buttare via un po' di foto di famiglia e i vestiti di sua madre. Poi lei e Giovanni continuano tranquillamente a condurre le loro vite, probabilmente sono addirittura convinti di essersela cavata. Ora possono vivere come una coppia indipendente, senza che José e Gloria si mettano in mezzo. Fortunatamente, come già sapete, i due non l'hanno avuto vinta perché il 19 ottobre 2011, a distanza di una settimana dall'omicidio, vengono portati alla stazione di polizia per l'interrogatorio. Alla fine entrambi ammettono che Gloria e José sono stati uccisi, Giovanni indirizza i detective nelle aree in cui li hanno sepolti e nelle zone in cui hanno buttato la mazza da baseball e abbandonato la macchina di Gloria. Il corpo di José viene recuperato nel punto indicato da Giovanni, ma emerge che il cadavere di Gloria era già stato scoperto, prima ancora che la coppia venisse interrogata. Il 15 ottobre 2011, infatti, un uomo che stava correndo si è imbattuto nei resti di Gloria e ha chiamato la polizia. Gloria per giorni non è stata identificata. Le autorità di Norwalk faticavano a capire chi fosse perché era deceduta già da qualche giorno e il suo corpo risultava abbastanza decomposto. Quando qualche giorno dopo Cynthia e Giovanni ammettono di aver commesso gli omicidi, si evince il collegamento con il cadavere non identificato a Norwalk. È di Gloria. Dopo i rispettivi interrogatori, Cynthia e Giovanni vengono finalmente arrestati. Come detto, la ragazza non mostrava di avere paura del fidanzato, infatti anche lei aveva preso parte all'omicidio. Vengono entrambi accusati di due capi di imputazione di omicidio di primo grado e viene deciso che nonostante la loro età saranno processati come adulti. Cynthia va a processo nella primavera del 2013 e si dichiara non colpevole. Decide di raccontare la stessa storia che ha ricostruito durante gli interrogatori della polizia, cioè di aver subito degli abbi da parte della madre e del patrigno per diversi anni e poi di essere sotto il controllo del suo fidanzato. Prima dice che lui la terrorizzava, per questo non era riuscita a fermarlo. Tuttavia le prove presentate dall'accusa dimostrano alla giuria che Cynthia era una complice, infatti aveva ordinato a Giovanni tramite le scritte sul quaderno di uccidere sua madre. Inoltre, durante l'omicidio di José, ha aiutato Giovanni, ha scalciato via il coltellino del suo patrigno, impedendogli di difendersi e ha colpito José con la mazza da baseball. Infine, anche se Giovanni aveva pianificato il duplice omicidio per settimane, in tutto questo tempo Cynthia non aveva mai avvisato qualcuno per impedire la tragedia, come un'amica, un'insegnante, la polizia. Ma anche avvertire i suoi stessi genitori sarebbe stata una buona mossa, dirla tutta, mi avviso. Mia opinione? Le azioni compiute da Cynthia dopo l'omicidio indicano chiaramente che era complice di Giovanni e soprattutto che non è mai stata turbata dalla morte brutale a cui i suoi genitori sono stati condannati. È andata a comprare delle decorazioni per Halloween, santo cielo. Lei pensava soltanto alla sua festicciola e ci pensava mentre andava in giro in macchina, col cadavere di sua madre nel bagagliaio. Alla fine del processo la giuria giudica Cynthia colpevole per due capi di omicidio in circostanze particolari e viene condannata a 51 anni di carcere. Giovanni subisce il processo separatamente da Cynthia e viene dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo senza condizionale. Ragazzi, ho finto di narrarvi questo caso, voglio sapere che cosa ne pensate. Io come al solito rimango senza parole. Cioè, questi due ragazzini hanno ucciso i genitori di lei perché non potevano stare assieme. Io continuo a rimanere senza parole quando vedo delle persone, dei ragazzini così piccoli, così giovani che commettono degli atti così atroci. Ci vuole coraggio per uccidere qualcuno. Come diavolo si fa a non mostrare rimorso, a non pentirsene, a non sentirsi in colpa? Vi giuro, io questa cosa non la capirò mai. E purtroppo, spesso in questi casi non trovo le perizie psichiatriche. Quindi non riesco a dirvi se sono affetti da qualche disturbo, anche se, secondo me, sì, c'è dietro qualche disturbo, indubbiamente. Ma purtroppo non posso dirvelo. E di conseguenza rimango sempre un attimino basita, nonostante siano anni ormai che porto questi video e questi casi sul canale. Detto questo, voi che cosa ne pensate? Lasciatemi un commento qui sotto, come al solito. Ci becchiamo nei commenti, io vi leggo tutti con molta molta attenzione e molta molta curiosità. Detto questo, io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ah, e buon Halloween, eh? Mi raccomando, fate i bravi anche durante la notte delle streghe, divertitevi che andiate fuori o stiate a casa. Divertitevi. Ciao ragazzi e ciao ragazze. Ciao ragazzi e ciao ragazzi.